Buongiorno e benvenuti al TGDR TTR, apriamo subito con la notizia di ieri dell'elicottero che è caduto in Val di Non, il PM Marco Gallina che si è subito recato sul gruppo delle Maddalene dove è avvenuto lo schianto, sta seguendo una doppia ipotesi di indagine, guasto tecnico o errore umano individuare le cause tecniche dell'incidente, dice il pubblico ministero, è fondamentale nell'ottica della prevenzione nel frattempo è ancora ricoverato al Santa Chiara di 30 il pilota Roberto Bezzi per l'uomo originario di Malè solo un trauma cranico e qualche contusione guaribile in 15 giorni emergono nuovi particolari nelle indagini che hanno portato in carcere Gian Michele Sartor l'imprenditore di Tonadico accusato di usura è la fine di un incubo, ha detto l'ex socio di Gian Michele Sartor che lo aveva minacciato fino a 10 giorni fa prima di essere arrestato dai carabinieri prima di finire dietro le sbarre Sartor viveva in una villetta a Tonadico nel primiero e gestiva una serie di locali fra cui in passato il bar Laghetto in Val Canali distrutto da un incendio doloso nel 2000, ricostruito e danneggiato da un altro rogo tre anni più tardi quando il locale era passato a un suo ex socio vicenda mai chiarita almeno finora secondo l'accusa Sartor riusciva ad ottenere la fiducia delle vittime per poi tessere una tela che le costringeva a dipendere dai suoi soldi in sette anni avrebbe storto 150.000 euro a un ex socio titolare di un pub birreria del paese prestandogli denaro a tassi di usura poi avrebbe convinto una giovane dell'est Europa a prostituirsi per saldare un debito di 12.000 euro che lui le aveva prestato per mandare un sostegno alla famiglia della ragazza nella sua abitazione sono stati trovati due quadri firmati Picasso di cui ora verrà accertata l'autenticità un antico vaso greco e un bunker per la coltivazione di canapa e la falsificazione di dollari che gli è valso tra l'altro l'accusa di abuso edilizio peccato veniale verrebbe da dire di fronte ad accuse ben più pesanti come quella di usura e sfruttamento della prostituzione ma lui si difende dicendo di essere un benefattore Imprevista presa di posizione del presidente del Tirolo Van Staa che da tempo ha un cordiale rapporto di collaborazione con la provincia di Bolzano ha affermato che a suo parere non è necessario che nella futura costituzione austriaca sia inserito un paragrafo che indichi la funzione di tutela dell'Austria verso l'Alto Adige proprio oggi avviene in programma uno dei tradizionali incontri tra il governo austriaco lo stesso Van Staa è una delegazione della ESVP con il presidente Pichler Rolle e il governatore Luis Durwalder La frana della Val Fiscalina ha innescato un fenomeno davvero particolare quello dei turisti a caccia di foto e souvenir sprezzanti dei divieti e del fatto che la montagna frana ancora I video e le fotografie della gigantesca frana che venerdì si è staccata da Cima Una nelle Dolomiti di Sesto rimbalzate nel mare Magnum di Internet hanno fatto il giro del mondo ma il fenomeno non è stato solo mediatico e legato ai canali di informazione già il giorno dopo la frana in Val Fiscalina si erano presentate decine di turisti con videocamere e macchine fotografiche adesso nonostante i sentieri siano stati chiusi per motivi di sicurezza e l'accesso sia sorvegliato dai carabinieri c'è chi agire i controlli attraverso i boschi pur di andare a recuperare uno dei sassi dei 60.000 metri cubi di roccia franati da portarsi a casa come souvenir li hanno notati dall'alto gli uomini del soccorso alpino chi si avventura oltre i divieti mette a rischio la propria vita dicono un appello amministratori e forze dell'ordine perché nonostante la situazione sia monitorata la montagna continua a franare con boati che si sentono fino a valle il cuore in patria questo è il titolo di un incontro che si è svolto questa mattina all'università di economia a Trento nel tessuto della nostra società ormai da anni si sono inserite molte donne straniere come lavoratrici domestiche meglio conosciute con il nome di badanti sono quindi all'interno delle famiglie italiane e ne conoscono le relazioni più intime e personali ma contrariamente a quanto si possa pensare la maggior parte di queste donne non sono sole ma hanno a loro volta una famiglia dalla quale si sono dolorosamente separate tra queste anche Raissa siamo venuti qua in Italia per lavorare abbiamo lasciato i figli a casa con la sofferenza che senza figli fin quando arriviamo per prendere regole che era veramente una sofferenza tanta per tutte le donne questa è solo una delle tante realtà fotografate dalla ricerca il cuore in patria condotta dall'assessorato alle politiche sociali tesa a indagare le dinamiche e la portata di un fenomeno migratorio che ricorda molto quello di inizio novecento degli italiani negli Stati Uniti abbiamo ricostruito che questa particolare e faticosa esperienza di vita dello stare qui lontano dai figli anche per tanti anni è proprio di alcuni gruppi nazionali in particolare quali le donne esteropee secondo me con la ricerca ci vuole capire noi meglio le persone che adesso siamo qui ci vuole capire altre come siamo riusciti a sopportare quella vita pesante per noi anche quest'anno il dormitorio di Ravina garantirà l'accoglienza invernale a dieci persone senza fissa dimora sentiamo il direttore della cooperativa Pes Giorgio Bortolotti abbiamo questa esperienza di gestione di un dormitorio ha la caratteristica a differenza degli altri di essere una piccola struttura quindi per accogliere un numero ristretto di persone persone che in qualche modo sono agganciate ai servizi sociali quindi sono inserite in qualche progetto la finalità è quella di offrire un posto letto appunto per tutto il periodo di apertura quindi da dicembre fino a fine aprile salvo che uno nel frattempo non trovi una sistemazione diversa e migliore in base all'esperienza dell'anno scorso abbiamo visto che 120 posti letto disponibili sono stati riempiti tutti quindi grossomodo diciamo attorno a quella cifra è un po' di più Conoscere la storia del giornalismo per sapere dove sta andando lo propone l'ordine regionale attraverso sei incontri con altrettanti noti giornalisti italiani Si discuteranno i temi più attuali dell'informazione non solo con gli addetti ai lavori ma anche con i cittadini per sapere su quali binari corre il giornalismo odierno l'ordine del Trentino Alto Adige organizza un ciclo di incontri il 18 e il 25 ottobre e il 22 novembre nella biblioteca comunale di Trento e al circolo della stampa del sindacato di Bolzano Si comincia con Magistà e la storia di un paese nell'Italia dei suoi giornali quindi Bergamini parlerà di storia e sabadina del futuro del giornalismo al centro dei dibattiti l'informazione uno dei pilastri fondanti della democrazia a gennaio e febbraio Mucchetti parlerà della spy story italiana che ha coinvolto il Corriere della Sera Severnini della lingua italiana e Altamore dei condizionamenti della pubblicità Io credo che ci si tutela col buon giornalismo cioè riprendendo a fare informazione con la schiena dritta riprendendo a fare informazione dando voce in maniera pluralista a tutti così col vecchio buon giornalismo di una volta ovviamente adeguato alle tecnologie e al mondo che è cambiato Da contorno dal 18 al 27 ottobre in sala a freschi della biblioteca di Via Roma la mostra l'Italia in prima pagina Si aprirà domani a Torbole la Wagner Cup gara velica internazionale per imbarcazioni classe Dragone Ultimo appuntamento della stagione al circolo vela Torbole con la Hans Detmar Wagner Cup 2007 International Dragon Class dal 18 al 21 ottobre Saranno circa 35 le imbarcazioni a sfidarsi sul Garda in un massimo di 4 prove al giorno fino a domenica Gli equipaggi di tre persone ciascuno dovranno destreggiarsi tra Randa, Genoa e Spinna che era a bordo dei Dragoni, scafi dalla costruzione sofisticata lunghi 8,90 m, larghi 1,95 m per un pescaggio di 1,20 m Sono state scelte le acque di Torbole in accordo con l'Associazione di classe dei Dragoni tedesca per assegnare il trofeo definitivamente al miglior timoniere che nella sua carriera abbia vinto almeno 4 edizioni ma per il verdetto bisognerà attendere domenica 21 ottobre Dopo la vela passiamo al calcio con il mezzo corona dopo il pareggio a reti bianche di domenica contro il Rodengo Saiano che vediamo nelle immagini Torna in campo alle 15 di oggi pomeriggio allo stadio Breamasco di Trento il mezzo corona calcio per il match contro Bassano valido per la Coppa Italia di Serie C2 Mister Rastelli schiererà una formazione rimaneggiata composta per lo più da giovani risparmiando la prima squadra per il doppio appuntamento di campionato di domenica a Valenza e mercoledì prossimo in casa contro la Nuorese Il telegiornale si chiude qui vi auguro buona giornata e vi rinnovo l'appuntamento con l'informazione di RTTR alle 19 nove Grazie a tutti